Ma il crossover in questione è piuttosto atipico e strano sotto molti punti di vista perché è il crossover tra Aquaman e la Suicide Squad Il capitolo si intitola Sink Atlantis Siete scritto da Rob Williams, autore ovviamente di Suicide Squad e da Dan Abnett, autore giustamente di Aquaman Gli autori sono José, Louis e John Bennett Volume che ha uno stile grafico piuttosto vario a seconda di che serie stiamo parlando Non sono i disegni belli che sono piaciuti a me di Aquaman La carta è piuttosto ruvida come sono questi nuovi volumi della DC Sì, le copertine sono comunque interne piuttosto belle ma vedrete alcune immagini ovviamente qui alla mia sinistra dove avete modo più o meno di gustarvi l'arte di questo volume Come avete visto il titolo è Sink Atlantis Un termine strano legato ad Atlantide Se non sapete cosa vuol dire Sink non cercatelo così non avrete spoiler Io rimango vago, diciamo che non vi dico tutto 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 l'inizio Per qualche motivo, mettiamola così La Terra teme Atlantide Ovviamente è una paura recondita che si ha da tantissimo tempo L'abbiamo potuto vedere in Trono of Atlantis Nei New 52, il Trono di Atlantide Storia scritta da Geoff Jones Dove per l'appunto le forze armate di Atlantide Hanno rischiato di invadere e attaccare la Terra La Liga è intervenuta, l'ha fermata Però insomma maremoti, grande caos e quant'altro Per qualche motivo c'è di nuovo sfiducia nei confronti di Atlantide E qui mi fermo sotto il punto di vista di spiegazioni troppo varie E in virtù di questo viene chiesta ad Amanda Waller di occuparsi della cosa E ovviamente lei l'unico modo che ha per farlo È attaccare Atlantide con la Suicide Squad Che quindi partirà in una missione dove dovrà cercare di rimanere il più sotto copertura possibile Per attaccare e distruggere Atlantide O comunque fermare qualcosa di Atlantide Ovviamente nel frattempo l'abbiamo visto Penso che sia abbastanza chiaro Il nuovo re di Atlantide è un personaggio piuttosto particolare Non è più il nostro Aquaman Che aveva già abdicato fondamentalmente tutta l'ultima parte della gestione di Denablet Si bugzava e si focalizzava su quello Quindi Denablet non ha perso il senno E Aquaman non è il re di Atlantide Non lo è tornato almeno per ora Il nuovo re di Atlantide sta per essere incoronato E niente, ci sarà lo scontro Perché comunque c'è proprio la volontà di distruggere Atlantide Quindi la Suicide Squad che interviene In particolare tramite un paio di nuovi membri inseriti ad hoc Che sono Lord Satanis E non mi ricordo come si chiama l'altro Però ok, ovviamente la squadra è quella composta da Killer Croc Harley Quinn, Deadshot Mr. Satanis che è un personaggio nuovo E un altro tipo blu di cui non ricordo il nome Che è ok Nel momento in cui Atlantide verrà attaccata Ovviamente Aquaman non starà con le mani in mano E sarà lui stesso a intervenire Chiedere aiuto E fermare, far fare cose Per fermare l'avanzata della Suicide Squad L'album in generale Non dico che sia solamente una scaramuccia Ma è poco più che una scaramuccia Tra le forze di Atlantide e la Suicide Squad In particolare con Lord Satanis Che abbastanza presto capirete essere l'antagonista della vicenda Mossa da delle motivazioni che Ok C'è qualche altro colpo di scena Più legato al finale di questo arco narrativo Che devo dire Tutto sommato mi è piaciuto Non era un arco narrativo dal quale avevo grosse aspettative Anche perché a me Della Suicide Squad importa poco e nulla Non so nulla Quindi ci sono riferimenti agli ultimi eventi successi Io me li sono trovati lì sparati E me li sono fatti andare bene Cioè sono cose che sono successe Amen Però è effettivamente interessante il fatto che vengano Si cerchi di sviluppare questa cosa in particolare E niente Un album abbastanza cacciarone Abbastanza d'azione Ma che ponendo la nuova sovranità di Atlantide Nel personaggio che diventa effettivamente il sovrano di Atlantide Desta comunque curiosità e aspettative da parte mia Per il futuro della serie So che in realtà la serie di The Nubnet Si potrebbe considerare chiusa a suo modo qui Perché i prossimi due capitoli Sono tie-in di un altro crossover Tra Aquaman e la Justice League E niente Che leggerò Non tra molto in realtà Perché dovrebbe Non so tra quanto mi arriva Comunque dovrebbe arrivarmi il volume di Justice League Dove c'è tutto l'evento Tranne i tie-in Quindi Aquaman me lo dovrò recuperare Per vie traverse Perché non ho intenzione Gli spillati si farà fatica a recuperarli E di prendere l'albo cartonato dell'evento Solo per leggere i tie-in Mi pare un poco sensato Quindi i tie-in penso che li recupererò in un altro modo E ne parleremo nel video della Justice League Quando sarà il momento Arco narrativo quindi Che si porta avanti la trama di The Nubnet Per come ce l'aveva imposta fino a questo momento Ci mostra effettivamente qualcosa In una direzione in cui The Nubnet poteva andare Io la testata l'avrei comunque lasciata in mano The Nubnet Ha fatto un lavoro bellissimo fin qui Lo interrompi a metà Perché effettivamente la sensazione è quella che lo interrompi a metà Però Mamma di sì ha deciso che era bene fare un cambio di autori In vista del film E come darle troppo torto Ha voluto cercare di monetizzare sul film Ha fatto bene fino a un certo punto però Cioè non so come sarà quella serie Però ne riparleremo quando uscirà il volume di Kelly DeConnekin Credo che sia la nuova autrice Comunque al di là di questo Albo piacevole Se non seguite le vicende di Aquaman Non vi consiglio di recuperare il crossover Se seguite le vicende della Suicide Squad Ovviamente sono capitoli strettamente interconnessi A proposito non vi ho detto che capitoli sono Sono Aquaman 39 e 40 E Suicide Squad 45 e 46 Sono proprio interposti Cioè tipo Si inizia con Suicide Squad 45 Poi c'è Aquaman 39 Suicide Squad 46 E Aquaman 40 Ed è un'unica storia Che è fila solamente se la leggete tutta Se vi leggete solamente i capitoli della Suicide Squad Vi manca il finale Se leggete solamente Aquaman Avete un pezzo centrale Avete la fine Però non sapete come ci si è arrivati In alcuni punti Quindi vi sembrerà strano Per quanto i capitoli di Aquaman Si concentrino più su Aquaman E i capitoli della Suicide Squad Si concentrino più sulla Suicide Squad L'effetto finale è quello di essere Una storia unica Quindi No Non sono dei tie-in Uno all'altro Ma sono effettivamente la stessa storia Divisa in quattro puntate Tra le due serie Questo è quanto voglio dire per oggi Questi sono un spazio di commenti Aspetto vostre opinioni in merito Avete letto Stato in anzitoria Non l'avete ancora letto Perché ancora non è uscito in Italia Quindi starete per leggere questo altro narrativo Mi direte che cosa ne pensate Guido Francesco I po' per le mie spalle Dalla soffitta di camera Non più soffitta è tutto E noi ci vediamo Di una prossima video-opinione del canale Ciao Ciao